Ciao, benvenuto a questo secondo video in cui ti mostro come fare una sorta di flamenco usando un accordo, usando un re e facendo così, facendo una sorta di roulata praticamente il gioco consiste lo imiti, immagini, ti inventi la scena di come canta un cantante flamenco lo imiti, fai finta lo imiti e creda una cosa fai un tempo così, circa dal tempo del genere, praticamente ti lascia andare e fai tutta la scena con la voce l'esercizio consiste nell'immaginare proprio quello che è un flamenco vedi? ti immagini proprio quello che è ritmo e quello che è un flamenco ciao a questo video